Seconda parte di mattino 6, allora adesso siamo pronti per andare a sfogliare virtualmente i nostri quotidiani. Ripartiamo dunque da pagina 3 del centro con la foto tra il ministro Boccia e il governatore Marsiglio. Boccia sprona Marsiglio, siete in ritardo, si parla di autonomia regionale, il ministro PD arriva a Pescara per suonare la sveglia all'Abruzzo. Ma il governatore vuole gli stessi diritti del nord ed è questa anche l'apertura della pagina del messaggero, della pagina abruzzese dedicata alla nostra regione del messaggero. Come leggiamo basta timidezze sull'autonomia strigliata di Boccia faccia a faccia di un'ora con il governatore Marsiglio sul federalismo differenziato, intesa piena su riequilibrio interno e solidarietà fra territori. Allora noi andiamo a vedere il servizio della nostra redazione. L'approvazione in Parlamento della legge quadro è una marcia di avvicinamento graduale a quell'autonomia differenziata tanto dibattuta, ma soprattutto maggiori investimenti per il mezzogiorno e nel caso specifico per l'Abruzzo e in particolare per le sue aree interne. Queste le richieste del presidente Marco Marsiglio al ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia che oggi a Pescara ha incontrato i vertici di regione e consiglio regionale. Con il presidente Marsiglio ci siamo confrontati sui principali nodi, sui principali temi, sui principali dossier che insomma regolano i rapporti tra la regione Abruzzo e il ministero degli affari regionali, attraverso il ministero e il governo tutto e sono qui anche per raccontare e rappresentare l'idea sulla quale stiamo lavorando con il governo sulla legge quadro per l'attuazione dell'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. Ed è stato un confronto molto proficuo, costruttivo e io penso che da questo punto di vista la cautela che la regione Abruzzo ha avuto in questi anni e in quest'ultima fase penso possa essere utilizzata anche per delle riflessioni che io sto facendo con tutte le regioni del Mezzogiorno, che si erano in qualche modo ritratte nel tempo che abbiamo alle spalle. I 15 mesi precedenti alla nascita del nuovo governo si erano trasformati in un nulla di fatto, come è noto, e soprattutto c'era un burrone, una voragine tra le regioni del nord e le regioni del sud. Era passata secondo me una ricostruzione sbagliata sotto alcuni aspetti anche macchiettistica per la quale il nord efficiente voleva soldi e libertà e il sud sprecone voleva l'aiuto dello Stato. Non era così in nessuno dei due casi. Abbiamo ricostruito un rapporto, un raccordo istituzionale prima di tutto, rigorosamente nell'ambito di una Costituzione che va rispettata tutta. E soprattutto se parliamo dell'articolo 106 della Costituzione non possiamo dimenticare tutti gli articoli che vanno dal 114 al 119. Per questa ragione ho rappresentato al Presidente Marsilio, così come sto facendo con tutti i presidenti delle regioni, l'idea di questa legge quadro che dovrà tenere insieme il Paese e che dovrà consentire a tutte le aree in ritardo di sviluppo, quindi non solo le regioni in ritardo di sviluppo, ma all'interno delle stesse regioni, le aree subregionali, quindi le aree provinciali, in alcuni casi anche aree di livelli inferiori alle province, devono ottenere priorità rispetto alle aree più sviluppate. Adesso andiamo sulla pagina di Pescara del centro, a Liona muore 45 giorni dopo le coltellate. La notizia che avevamo dato è che ha trovato ampio spazio anche nelle prime pagine, un'altra donna uccisa, sei operazioni non sono bastate, salvare la vita alla giovane ricoverata al gemelli, la sorella, l'assassino deve avere l'ergastolo. E dieci giorni fa ci ricorda il centro, l'omicidio a Nereto di Micaela, 32 anni. Insomma, sono purtroppo pagine veramente da cancellare assolutamente, perché sono veramente delle tragedie. Ragazza palpeggiata in discoteca, come vediamo le donne, sempre purtroppo al centro della cronaca in discoteca, cugini se la cavano solo con una multa, il fatto avvenne a San Valentino nel 2018, l'accusa aveva chiesto fino a 9 anni per violenza sessuale, Francesco e Andrea Lombardi condannate rispettivamente al pagamento di 2.000 e 1.000 euro. Di spalle, il vizio di Carabinieri, droga, 23enne pescarese, arrestato a Bologna. Tre spaccate in centro, scoperto il ladro. Siamo a Pescara, negli ultimi due giorni presi di mira ai locali di Piazza Muzzi e Via Piave, bloccato un giovane in fuga, le modalità sono sempre le stesse, la porta di vetro viene infranta o rimossa e poi rubano la cassa o solo il cassetto da esaminare, le impronte e riprese delle telecamere. Il PD chiede l'intervento del prefetto, i consiglieri di comune e regione servono più controlli, il centrodestra non mantiene le promesse. Sulla sicurezza c'è ampio spazio anche sul messaggero, come vediamo nella pagina di Pescara, il PD ha solo chiacchiere sulla sicurezza, il consigliere regionale Blasioli cerca di stanare il sindaco, da masci solo propaganda, c'è bisogno di uomini e mezzi, appello al prefetto per la convocazione urgente di un tavolo, pettinare il Movimento 5 Stelle, annuncia per oggi un presidio a Rancitelli, per contrastare spaccate in centro i furti, gli scippi e lo spaccio di droga, bisogna alzare la voce con Roma. La sentenza, nessuna violenza al Megà, tutti assolti, cugini Chietini, Andrea e Francesco Lombardi, riconosciuti colpevoli soltanto di lesioni, il PM aveva chiesto condanne a 9 e 6 anni. Scendiamo, via Trento bombardata dagli uccelli, siamo sempre a Pescara, è allarme per sporcizia e cattivo odore, disperati residenti e commercianti per la mancanza di pulizie, tra le idee anche un falchetto antistormo. Ne avanti, rimanendo sullo messaggero, la finanza acquisisce le spese elettorali, nuova ipotesi di accusa, la pista del finanziamento illecito nell'inchiesta sugli eventi di Cuzzi, di Pietrantonio e di Carlo, noi non siamo indagati. Tutti di corsa, domani in Maratona D'Annunziana, 2000 al via, la mappa dei divieti. Anche qui ritroviamo la storia purtroppo tragica di Aliona, ha coltellato a muore dopo 45 giorni, non ce l'ha fatta, Aliona Olenic, la moldava di 33 anni, colpita 11 volte da Roland Busci, che diceva di amarla, il decesso al Gemelli di Roma, dopo 6 interventi chirurgici per l'albanese, 27enne, scatta l'accusa più grave di omicidio. omicidio, caccia alla banda, furti sventati e riusciti, penne calcio, senza tute. Poi a Montesilvano coro di no, al parcheggio che sfratta il Dog Village, e poi in basso due feriti in altrettanti incidenti in campagna, siamo sempre a Montesilvano, Erasmus Plus, il Michetti si aggiudica i fondi europei. Qui siamo all'Aquila e allora, prima di cambiare città, chiudiamo con il centro, ecco qui l'inchiesta sui grandi eventi si allarga, elezioni comunali, la procura indaga sulle spese dei candidati, ieri la finanza è tornata a Palazzo di Città nell'ufficio del segretario generale per acquisire le carte delle spese degli ex assessori Cuzzi e di Carlo, che vediamo in foto, del segretario cittadino del PD di Pietrantonio. Andiamo avanti, sempre a Pescara, area di risulta, addio ai fondi della regione, se cambia il progetto, il dirigente avverte i consiglieri che propongono modifiche al piano della passata giunta, così salteranno 12 milioni. Comune al via i concorsi si parte lunedì con i vigili. Cerimonia, nuova biblioteca, oggi l'apertura alle 17, l'inaugurazione della struttura dedicata a Falcone e Borsellino. Via Firenze, polemica del Movimento 5 Stelle per il Palazzo Multicolor, lettera alla sovrintendenza. Il mese dell'affido nuove famiglie per i ragazzi in difficoltà, per due anni prorogabili si possono accogliere i minori. Il 2018 29 pescaresi hanno aperto la propria casa e questa è una bella cosa. e poi ci sono anche delle storie di chi è effettivamente stato protagonista. Di questi affidi a Montesilvano, via Salieri, via l'assegnazione di 12 case popolari, edificio pronto dopo 10 anni. Conclusi i lavori, il Comune pubblica il bando per stilare la graduatoria e appartamenti privi di barriere architettoniche. Il Terminal Bus, nodi residenti e associazioni, iniziativa al Parco della Libertà con Dog Village, Italia Nostra, Lega Ambiente, Comitato Saline, PP1. Il ride sul lungomare, sempre a Montesilvano, spari da un'auto contro un transessuale. Il 33enne di origine colombiana, ferito con un'arma ad aria compressa, al vaglio le telecamere. Città Sant'Angelo, nasce la scuola della musica, il Comune apre le iscrizioni. Siamo a Francavilla, riduzione in schiavitù. In appello, condanna 10 anni per due fratelli, pene ridotte per Danail Penko-Pinkov, che a Francavilla avevano messo in piedi una rete di prostitute. Ragazze d'Escada è il loro paese, con la promessa che avrebbero lavorato in Italia come badanti. Ladri in azione nella notte, qui siamo a penne, ride pure al penne calcio, raffica di furti e tentati furti tra Contrada Campetto e zona Ponte Sant'Antonio, nella sede sportiva Asportate. tute, divise bianco-rosse, medicinale e bombolette. A Popoli, ripensiamo il territorio, incontra l'assessore Danuntis, e poi, intossicati dai funghi, migliorano i ricoverati, in undici a penne e pescana. E nei due noso comi. Siamo a Chieti, botte in famiglia, prende la moglie a pugni in testa, e le punta un coltello alla gola, marito violento allontanato da casa, dai poliziotti della Mobile, per anni ha maltrattato la convivente, la donna, finita in ospedale, insultata e minacciata di morte, anche nel giorno del compleanno. Giovane scoperto, vende droga al parco, un diciassettenne finisce nei guai. Ma come vediamo, anche qui ci sono altre notizie che riguardano, che vedono le donne, delle comunque vittime, umilia la compagna, scattano con danni, risarcimento danni. Qui cambiamo decisamente argomento, stop allo sciopero, Daico, accordo trovato, in 600 tornano al lavoro, l'azienda, dopo quattro giorni di protesta, accetta di ripristinare il contratto integrativo, è già partita la trattativa con i sindacati per la firma di un nuovo documento. E oggi la Sevel riparte, e la FIOM fa sciopero, revocato lo stop per il blocco della FCA di Cassino, sindacati contro gli straordinari, in basso, patto con Ferrero, via i campi di Nocciole, San Salvo, siglato l'accordo con il colosso della Nutella, acquisterà il 75% della produzione. A Teramo, Sorgentone, a Coltella, il collega musicista, Giulianova, il vincitore di Italia Sgottalent, litiga in un locale, poi si scusa, io e l'uomo che ho colpito, restiamo amici, e ci siamo chiariti. Michela, l'assassino e il rischio suicidio, sorvegliato a vista. Pineto, si schiera contro i lavori al porto di Roseto, danni alla nostra costa, approvata all'unanimità una mozione in consiglio comunale, il sindaco, dobbiamo salvaguardare l'interesse del territorio. Ospedale, il PD, è urgente potenziare gli anestesisti, anestesisti in basso, Silvi, finanziate le barriere antirumore sulla ferrovia. All'Aquila, camionista, muore travolto in autostrada, il 61enne, scende dal mezzo in avaria e viene investito da un altro tir, lunghe code in direzione Roma e traffico deviato, tragedia sulla A25. Queste sono alcune foto, purtroppo, della giornata tragica di ieri, l'uomo era originario della Puglia e lavorava per un'azienda di trasporti. Il conducente dell'altro mezzo pesante verrà indagato come atto dovuto. Precipita col parapendio, grave un cinquantenne, l'uomo di Pratola, ricoverato a Roma, incidente nel Frusinate a causa della chiusura della vela. Qui siamo allo sport e allora, continuiamo la lettura del messaggero, in questo caso all'Aquila, vigili del fuoco, nuova caserma, spostata nell'area di Coppito, indiscrezione dopo una riunione del Demanio con il Ministero, localizzazione più gradita anche allo stesso sindacato di categoria. Nuova ciclabile, andamento lento per i lavori. E poi, l'assessore Taranta, corso stretto con Via del Carmine, riapre a Natale. Cronaca, truffauto, la mente era aquilana. E poi, un dirigente per il decennale De Santis, scelta molto strana. Con le maggio, le opere, tornano a casa, l'attesa annuncio della protezione civile per la Basilica, il termine fissato per i primi mesi dell'anno prossimo, lavoro certosino per la conservazione dei beni culturali, comandante Grasso, è stato un lavoro molto complesso. Il ricordo, Ferdinando Bologna, il genio che non si accontentava, e poi, in basso, i conti in rosso, le province battono, cassa in regione. Associazione Polizia, nuova sede a Gignano, il sindaco, biondi, taglia il nastro, come vediamo, falciato da un tir, anche qui, ritroviamo ovviamente la notizia, muore sulla 25, il camionista pugliese di 60 anni, travolto e ucciso da un altro auto articolato nei pressi dell'uscita, Ielli Celano. L'autotrasportatore era sceso per verificare un guasto che aveva interessato il suo mezzo e l'autostrada è stata bloccata. Altre notizie, Pescasseroli, micro rifiuti in cambio di libri, successo tra i ragazzi. Assulmona, truffa del pacco postale, ha ciuffato il falso postino. e poi Antonello Venditti ad Avezzano al concertone di Natale. Assulmona, vigili urbani, mercurio comandante, tribunale di Avezzano, De Angelis, serve un comitato ristretto. A Chieti, le parole del manager dell'ASL, Siael, policlinico produttivo, come il DEA di secondo livello, ricoveri ordinari, pochi 70 milioni l'anno. Resta fondamentale il ruolo dell'università. Donatelli, fratelli d'Italia, chiede soluzioni per criticità di consultore e distretto sanitario allo scalo. Al Museo Barbella, mostra nel segno del mitico Achille, e poi, minaccia di morte la moglie, il giudice lontano da casa. In basso, le spine, come leggiamo, novantenne protesta, l'ACA non risponde, e poi il caso, vendita di armi, sit-in alla Leonardo. A Lanciano, Ponte di Ferro, per passare sulla Voragine, la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità, l'intero intervento avrà il costo di circa 300 mila euro. L'assessore Verna intanto rassicura i residenti della zona, non c'è assolutamente alcun rischio cedimento per le case. Sevel, dopo lo stop, riparte la produzione, ma tornano anche gli scioperi. A vasto, ospedale San Pio, 400 mila euro per le dotazioni tecnologiche. A Ortona, spacciava in centro, minore, viene denunciato. E i lavori alla diga a vasto, otto rinvia, giudizio. A Ortona, Marfisi, una denuncia prima dell'omicidio. Cambiamo pagina, siamo a Teramo, Ateneo, tasse scontate ai figli dei dipendenti della regione. Benefici anche al personale in pensione, ai congiunti, ai conviventi e ci sono dei malumori. L'accordo durerà cinque anni, le università servono per l'aggiornamento continuo. Giudiziaria, usura il giudice, congela tutti i debiti con le banche. Adatri, l'opposizione, giunta, immobile. in basso, il dibattito, pronto un decreto legge sul sisma, Marsiglio, concordato, senza di noi. Poi sul decreto sisma vedremo che ci sarà spazio anche sul quotidiano la città. Siamo a Giulianova, Sorgentone mi ha coltellato, l'artista di Giulianova avrebbe aggredito un musicista a Roma, poi è scappato, ricercato anche in Abruzzo, in serata si è presentato. Ieri pomeriggio ha postato sui social alla sua versione solo una semplice lite, la vittima lo ha denunciato. A Martinsicuro una tragedia va in bici sulla statale, 61enne muore di infarto. Sempre a Giulianova, Natale d'intorno, in maxi programma in arrivo, poi Micaela, il compagno, violò il profilo Facebook dopo l'omicidio. L'amica dice ho provato a chiamarla e ho visto che era attiva la connessione dopo la sua morte. qui siamo come vedete allo sport, prima però rimaniamo in provincia di Teramo con il decreto sisma che vi ho detto prima, grande attesa sul nuovo decreto sisma, il Premier Conte l'ha annunciato per lunedì, potrebbe contenere la misura sull'autocertificazione delle pratiche, vedremo se poi sarà così in effetti. Scuole, comune e provincia a confronto, appena 38 mesi dopo la prima scossa di terremoto ha avviato il dialogo sulla riorganizzazione degli edifici, qui vediamo il Sindaco di Teramo D'Alberto e il Presidente della provincia Diego di Bonaventura. A proposito del Sindaco di Teramo D'Alberto eletto come Presidente dell'Anci Abruzzo, già delegato per il cratere sismico, appoggiato dal Partito Democratico, su di lui convergenza bipartisan. L'illuminazione pubblica, luci fredde e poco potenti e fili nel caos pari de non va, le luci a led hanno portato risparmi appena ora di benefici non se ne vedono, anzi in centro è protesta. Qui ci sono due foto che fanno vedere la differenza tra l'illuminazione precedente e quella attuale, decisamente molto molto meno potente, almeno così a occhio dalla foto. politica Verzilli lascia il Movimento 5 Stelle che chiede le sue dimissioni, il consigliere comunale subentrato al sindaco candidato sindaco Rocchetti passa al gruppo misto con Verna e Sbraccia. Fondi per la cultura e associazioni in ginocchio, pilotti del PD torna la carica sui ritardi alla regione, l'assessore Febbo è colpa di D'Ignazio. Cronaca siamo in vibrazione a controguerra schianto contro un cancello è grave nigeriana 44enne ricoverata in ospedale dopo l'incidente proprio a controguerra e poi Martinsicuro muore per un malore mentre va in bicicletta a centropagina sempre a controguerra via la riqualificazione del municipio a Giulianova criticati i vecchi interventi su Palazzo Bindi visita della sovrintendenza al cantiere ingenti danni causati dai lavori svolti tra il 2005 e il 2012 grazie all'intervento in corso la struttura riacquisterà una parte delle storiche prerogative coltellata nel locale sorgentone nei guai il musicista avrebbe ferito al gluteo sinistro un 42enne durante una serata in un locale romano la versione dell'artista una semplice lite tra amici per futili motivi una notizia che è stata gonfiata con dei titoloni Pineto vuol dire la sua sui lavori a Portorose approvata all'unanimità in consiglio la mozione per salvaguardare le spiagge nord dall'erosione a Roseto pubblicato il bando per completare la caserma delle fiamme gialle sempre a Roseto nuovi asfalti al casello dell'autostrada disagi notturni però per realizzare la nuova pavimentazione addio definitivo ai fortini storici di Silvi completato l'abbattimento delle strutture dopo lo stop temporaneo partipilo poteva essere evitato dice ad Atri commissione consigliare permanente sui problemi dell'ospedale adesso apriamo la pagina dello sport partendo ovviamente dalla serie B e da Pescara Spezia ecco qua Zappa e Castrati dall'inizio Zauri carica avanti tutta il terzino al posto di Ciofani l'allenatore sappiamo come far male ai Liguri e allora proprio le parole di Luciano Zauri noi andiamo ad ascoltare nel prossimo servizio lo Spezia avendolo visto in più partite una squadra che è brutto dirlo ma comunque è una squadra abbastanza sfortunata ha avuto tante partite dove ha perso ma veramente legata ad alcuni episodi ha affrontato squadre forti Benevento Crotone dove ha perso ma non ha sicuramente demeritato per cui è vero si ha incassato molti gol probabilmente in casa col Trapani nella squadra la partita dove magari ha fatto meno bene però in tutte le altre partite ha fatto delle ottime prestazioni e ripeto perdendo degli episodi è chiaro che quando tu perdi cinque partite poi vengono meno alcune certezze eccetera però è una squadra che ha delle caratteristiche ben precise ha gente davanti molto veloce che quando riparte fa male ne lo controllo molto forti per cui è una squadra veramente importante per la categoria partita chiaramente non bene dovremmo avere coraggio quando si dovrà andare avanti ma avere la pazienza di aspettare quando lo Spezia avrà possesso una squadra che gioca bene quindi rispettando l'avversario come abbiamo sempre fatto ma pensiamo e sappiamo dove fargli male abbiamo le possibilità di fargli male con i giocatori bravi che abbiamo noi quindi insomma ce la giochiamo a viso aperto quando sarà possibile questo cambio di modulo ha fatto sì che in poco tempo conoscessimo bene un 1 cioè quello che abbiamo fatto da luglio fino a 20 giorni fa e stiamo entrando con l'idea di migliorare quello che abbiamo appena iniziato quindi questa squadra può fare oggi due sistemi di gioco più o meno alla stessa maniera è chiaro che quando si ha bisogno di certezze poi con un pizzico di fortuna porti a casa la vittoria credo che ti dà anche un po' di consapevolezza nei propri mezzi e quindi in questo caso si va avanti con questo sistema di gioco ma in corsa possiamo cambiare con delle certezze perché comunque sia un modulo e conosciamo bene l'altro ma intanto nel 2019 mi sembra assurdo che ancora si stia qui a parlare di colore eccetera io veramente mi vergogno per queste situazioni quindi Pescara ha fatto una genialata una risposta top ma credo che il 99% delle persone mi auguro la pensi come Pescara come tutti quanti noi queste persone vanno assolutamente marginate probabilmente attraverso anche misure drastiche perché insomma non si può pensare ancora che ci siamo dei bui allo stadio e allora rimaniamo in casa biancazzurra perché andiamo sul messaggero il Pescara vuole conferme in casa oggi alle 15 all'Adriatico arriva lo Spezia ultimo in classifica Memu Schaif sarà il regista Zauri senza Capitano Fiorillo e Ciofani Palmiero potrebbe partire dalla panchina e tanto le buone notizie che la primavera scrive la storia asfaltata la Juventus 3 a 1 torniamo però alle probabili formazioni gol infortuni il ritorno di Ragusa dopo l'incubo questa è la seconda pagina dedicata a Pescara Spezia del centro l'attaccante dello Spezia il grande ex nell'ultima gara contro il Pescara si è rotto il legamento crociato il tecnico italiano tireremo fuori gli artigli e questa è la formazione che vedremo con il Pescara che confermerà il modulo che è tanto bene affatto ad Asco il 3-5-1-1 3-5-2 come preferite con Castrati che sostituisce Fiorillo tra i pali e in difesa Drudi Campagnaro e Scogna Miglio Zappa Macin Memushai Busellato e Masciangelo a centrocampo e poi Galano a supporto di Brunori 4-3-1-2 invece dovrebbe essere almeno 4-3 almeno le intenzioni per lo Spezia con scuffette tra i pali davanti appunto Ragusa con Ghiasi e Bidawi attenzione soprattutto perché lo Spezia di Vincenzo Italiano è comunque squadra temibile come detto noi seguiremo la partita a partire dalle 14.30 con Diretta Stadio intanto giornata che ieri si è aperta con l'anticipo che vediamo con il Cosenza che ha battuto nettamente 3-1 il Cittadella andiamo adesso in casa del Teramo che perde cappa Cristini in dubbio per la Paganese al Bonois in arrivo la squadra più prolifica del girone Tedino studia le contromisure e rilancia Bombagia andiamo in casa Teramo sulle colonne del Messaggero Teramo top secret invidia la Paganese allenamento a porte chiuse di Tedino pochissimi giocatori certi della conferma i prossimi avversari del Bonois sono la cooperativa del gol e quello che doveva essere il sogno del diavolo che fino a questo momento è stato mancato per il notiziario Rieti cambia la proprietà e rassicura la Lega peraltro a Rieti dovrebbe arrivare Giordano sulla panchina con Gigi Pavarese che insomma da dirigente dovrebbe sedersi dietro la scrivania reatina in basso la notizia particolare che viene dal mondo dei dilettanti arbitro ammette l'errore si rigioca l'empa favale altre notizie sempre di calcio ma di serie D Avezzano Liguori e il nuovo allenatore giornata bianco verde quella di domani non varranno gli abbonamenti la vastese solo 150 tifosi Amelia non può sbagliare andiamo torniamo sul centro Avezzano arriva la svolta Liguori nuovo allenatore il patron Paris affida la panchina al 44enne napoletano ex vice di Marco Simone il neotecnico questa è la mia grande occasione Vaccaro resta come secondo verso il derby con la vastese ovviamente cambiamo pagina andiamo in serie A2 di basket Roseto chiede strada all'ex Fulsa al Palamaggettina arrivo Imola il play Romagnolo è la partita del cuore ma voglio vincerla in serie B di basket ovviamente Cilio coach di Teramo pronto all'esame derby tecnico dell'Adriatica Press carica vogliamo la prima vittoria ci sarà il derby con Giulianova al Palacastrum e allora dall'altra parte Ciocca festeggia lei 600 panchine Giulianova avverte i suoi occhio a Lestini evidentemente un uomo pericoloso in basso nuova HF parliamo di Pallamano ora il primo acuto in casa Pallamano a 2 domani le Teramane ospitano il Chiaravalle torna Palarie bene questa era l'ultima notizia per oggi io vi ricordo l'appuntamento con il nostro TGA alle ore 14 alle 14.30 c'è diretta stadio per seguire Pescara Spezia la rassegna stampa invece torna lunedì mattina sempre puntuale alle ore 8 a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon fine settimana a me non resta la all'all a e biti Buongiorno, ben svegliati e ben ritrovati con la nostra rassegna stampa di mattino 6, questo sabato 19 ottobre, siamo pronti per andare a sfogliare virtualmente i quotidiani che trovate già in Edicola, in questa prima parte come di consueto partiremo dalle prime pagine non solo dei quotidiani abruzzesi ma anche di quelli nazionali e sportivi. Allora cominciamo subito, partiamo dai giornali di casa nostra, le quattro edizioni del quotidiano Il Centro che hanno una fotonotizia comune, adesso lo vedrete, purtroppo si tratta di una tragedia e l'edizione di Pescara fa anche l'apertura con la tragedia di Aliona, la famiglia giustizia per Aliona coltellata da un folle, la ragazza moldava è morta dopo 45 giorni di agonia, questa è la sua foto, Aliona Oleinic colpita con 11 coltellate lo scorso 3 settembre da un 27enne che la rifiutava e morta ieri, come vedremo poi sarà il suo volto ricorrente all'interno delle quattro edizioni. In alto purtroppo è stato un venerdì contrassegnato anche dal sangue sulla A25 a Pescina, tragedia in autostrada, scende dal camion, viene travolto e ucciso. Ieri la visita del ministro Boccia in Abruzzo, autonomia regionale, Boccia, Sprona e il governatore Marco Marsiglio. Scendiamo in pagina, vediamo nei box, partendo dalle cronache, siamo sempre a Pescara, spese elettorali, al via le indagini della Procura sui grandi eventi al Comune di Pescara, cresce il numero degli indagati e adesso anche appunto le spese elettorali. ladri scatenati, raid a penne, rubate le divise dei calciatori. A Montesilvano assegnate le case popolari, il bando è come leggiamo per 12 appartamenti. Poi dal trionfo TV alla coltellata L'Amico, il vincitore di Italia's Got Talent su Sky, il pianista Giuliese Sorgentone preferisce un collega nel box a destra. Oggi torna il campionato di Serie B, oggi all'Adriatico Zauri a caccia di conferme, Pescara ora batti lo Spezia alle ore 15. Dunque all'Adriatico c'è Pescara Spezia. Allora io ne approfitto già per ricordarvi l'appuntamento di questo pomeriggio. A partire dalle 14.30 avremo un'edizione leggermente ridotta del nostro telegiornale, per poi dare spazio proprio allo stadio Adriatico con diretta stadio, Andrea Costantini e i suoi ospiti in studio, Paolo Rezzetti ovviamente dall'impianto di Via Pepe per vivere insieme la gara dei Biancazzurri. Cambiamo adesso non quotidiano ma edizione, andiamo sul centro edizione di Chieti Lanciano Vasto. Come vedete l'apertura è simile, la famiglia che chiede giustizia per Aliona. Andiamo a vedere che cosa cambia, cosa c'è di diverso nell'edizione di Chieti. Allora dobbiamo andare nelle cronache. Daico, protesta finita, si torna in fabbrica dopo 4 giorni di sciopero. I 600 operai della Daico tornano al lavoro, niente taglia di stipendi. Ieri mattina è stato trovato l'accordo tra la direzione aziendale e i sindacati. Sempre tematiche legate al mondo del lavoro. Riparte la Sevel, ma la Fiom fa sciopero. Qui ovviamente siamo allo stabilimento di Atessa. Poi il manager Asl, Shaila e i medici. Siamo a chiedi in ospedale siate più produttivi. Un richiamo proprio del manager della Asl, Teatina. Agricoltura dall'altra parte, San Salvo, sia l'accordo con la Ferrero. Pronti i campi di Nocciole. Arriva il Via Libera, l'accordo con la Ferrero per avviare la produzione di Nocciole tra Basso Abruzzo e Molise. Il colosso della Nutella è pronto ad acquistare il 75% della produzione. Cambiamo di nuovo. Edizione andiamo sull'edizione del centro, l'edizione Aquilana. L'apertura è diversa. Sisma salve migliaia di opere d'arte. L'Aquila, 4 tele, torneranno a breve. Questa è una buona notizia nella Basilica di Collemaggio. Andiamo nelle cronache. Siamo sempre all'Aquila. Provincia voto per il Consiglio. Politici alle urne. Si rinnova il Consiglio provinciale. 1.265 amministratori alle urne. Da domani alle 8 fino alle 20 sindaci, assessori e consiglieri comunali della provincia potranno recarsi alle urne. E sono tre le liste. Sempre all'Aquila. Insulti sul web ai poliziotti. Guai per un Aquilano. E poi ad Avezzano invece sarà Venditti, la star natalizia dei concerti. Sotto la fotonotizia che come vediamo è dedicata ovviamente al femminicidio in Abruzzo, alla tragedia di Agliona Oleinic. Sotto, vediamo, cade con il parapendio e si ferisce. Incidente a Campo Staffi nel Frusinate. Un Pratolano ricoverato al Gemelli dopo l'impatto. Dall'altra parte invece per lo sport svolta da Avezzano. Ecco il nuovo allenatore. Si tratta di Andrea Liguori, 44enne tecnico di Napoli. Da anni però trapiantato a canistro a cui il presidente Gianni Pali si ha affidato la panchina bianco-verde. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella terramana. L'apertura è questa. Sorgentone a coltella l'amico. Il pianista Giuliese, vincitore del talent di Sky, denunciato si scusa una ferita lieve. Scendiamo a centro pagina nelle cronache. Siamo in Val Vibrata, Alba Adriatica, erosione della costa. I balneatori stoppa e ricorsi. Trento operatori turistici di Alba Nord che avevano avviato una class action contro le istituzioni. Danno fiducia al piano di interventi programmato dalla regione e dunque sospendono l'azione. A Roseto una accordata di imprenditori per l'ex cinema a Giulianova. Pala eventi da mille posti per il Natale. Sotto la foto, come vediamo, purtroppo altra cronaca. Muore a 34 anni il dolore a Pineto. Il giovane metra di un hotel era malato. Oggi i funerali a Monte Gualtieri. Lascia un figlio. E poi elezione a Lanci. Dalberto, presidente dei comuni abruzzesi. Dopo vasto, tocca a Teramo. Dopo Luciano Lapenna. Gian Guido d'Alberto, sindaco di Teramo. Sale al vertice del lancio abruzzese. E ci resterà per 5 anni il centrodestra. Conquista la maggioranza del direttivo. Cambiamo quotidiano adesso. Andiamo sulle colonne del messaggero. Ovviamente la parte dedicata alla nostra regione. Questa è l'apertura. La coltellata di Sorgentone. il pianista di Giulianova. Famoso per la vittoria Italia's Got Talent. Accusato del ferimento di un amico a Roma. Ricercato anche in Abruzzo in serata. Poi si è presentato alla polizia. Come vediamo, le donne nel mirino. Morta dopo oltre un mese. La moldava colpita a Francavilla. L'ho fatto per amore, disse l'albanese. Arrestato. Di spalla, come abbiamo anche qui, nuove cariche. Il sindaco di Teramo, D'Alberto, guida a lanci abruzzese. In alto la visita di Boccia. Il ministro basta timidezze sull'autonomia differenziata. Università, tasse scontate a Teramo ai dipendenti della regione. E poi il Pescara invece è in cerca. Siamo allo sport di conferme. Casalinghe oggi contro lo Spezia. Memouchin in cabina di regia. Grandi assenti Fiorillo e Ciofani. Intanto la primavera è in festa. Storica vittoria ieri della squadra allenata da Nicola Legrottaglie. 3-1 sulla Juventus. Peraltro una vittoria che farà particolarmente piacere all'allenatore Biancazzurro che è un ex che ieri era un ex che ha giocato anni fa proprio con i bianconeri. A centropagina l'Aquila rinasce. Tornano a casa i tesori di Collemaggio. L'opera titanica e nello stesso tempo Certosina è stata portata a compimento da Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. A inizio 2020 la riconsegna delle opere. Spese elettorali. Cambiamo argomento. Nuovo blitz delle fiamme gialle. Gli investigatori sono tornati in comune accertamenti su Cuzzi di Pietrantonio e la di Carlo. Siamo a Peschiara. La tragedia scende dal tir camionista travolto sulla A25. Poi il killer su Facebook uccise Micaela e violò il profilo. Cambiamo ancora quotidiano. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Città. Dunque siamo in provincia di Teramo. Questa è l'apertura. Attesa per il nuovo decreto sisma annunciato da Conte per lunedì potrebbe contenere la rivoluzione autocertificazione oppure una mossa elettorale. In alto contro guerra. Schianto contro il cancello. Grave una 44enne nigeriana. La fotonotizia dedicata a musicista Sorgentone. Nei guai indagato per l'amico musicista coltellato in un locale. Qui lo vediamo nell'esibizione che poi lo ha portato effettivamente alla vittoria del programma Italia's Got Talent con il pianoforte in fiamme. Leggiamo a Mosciano. Cavallo fugge dal maneggio travolto e ucciso sulla statale 80. Pineto vuole dire la sua supporto rose. Parliamo di erosione. Associazione dei sindaci d'Alberto eletto presidente bipartisan di Anci Abruzzo. Rimaniamo a Teramo. Verzilli lascia il Movimento 5 Stelle ma resta in consiglio. Altre notizie. L'inchiesta. Luci fredde poco potenti. Cavi nel caos. I nuovi led di Paride non funzionano. E a Silvi demoliti entrambi i fortini. Andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani nazionali partendo con il Corriere della Sera. Ovviamente spazio alla manovra. Manovra asse antipremier. Renzi e Di Maio all'attacco. Va cambiata. Serve un vertice. Lira di Conte. Il presidente del Consiglio. Se hanno poco coraggio lo dicano in Parlamento. Zingaretti. Irresponsabili. E poi barricate, scontri e feriti. La battaglia di Barcellona. I disordini dopo le condanne dei secessionisti. Salta anche la sfida in campionato con il Real Madrid. L'inchiesta tangente. Arrestato l'autore Casimiro Lieto. Fu in corsa anche per Rai 1. E accusato di corruzione. La Repubblica. Fuoco amico. Su Conte. Governo sotto stress. Il premio era assediato dalla coppia Di Maio Renzi. Sui contanti e quota 100. Zingaretti gli fa da scudo. Evasione. Abbiamo scherzato. Dietro front di Movimento 5 Stelle e Leu. Sulle misure per colpire chi sfugge al fisco. Oggi Salvini porta in piazza la sua destra. Berlusconi lo incorona. E poi anche qui. 500.000 catalani bloccano Barcellona. Questo è il fiume di persone che protesta per le condanne. La Sagrada Famiglia chiusa. Niente partita con il Real Madrid. Andiamo avanti. Il messaggero. L'alto là di Di Maio a Conte. Manovra. Movimento 5 Stelle all'attacco. Senza di noi non si fa niente. Subito vertice di maggioranza. Ok di Renzi. Ma via quota 100. Era del premio. Il testo non cambia. L'Unione Europea chiede dei chiarimenti. E poi altre notizie. Per esempio questa. La rabbia catalana. Anche qui ritroviamo. Paralizza Barcellona. Mezzo milione in strada. Pericolo infiltrati. Salta. Il match Barca-Real Madrid. E poi Sportello che fatica. Un bonus antistress. Ai comunali di Roma. L'indennità ai dipendenti dell'anagrafe. Ma per rinnovare un documento servono anche tre mesi. Il Fatto Quotidiano. Con tanti i 5 Stelle parlano come Renzi. Antievasione sconcertante uscita di Di Maio e compari. Contro Conte sui limiti al cash. E multe a chi non tiene il post per le card. Così i due Matteo e B Berusconi. Gongolano. Certezza della pena. Dell'Utri libero con 16 mesi di anticipo. Il padre di Forza Italia deve scontare 7 anni. Sta per uscire. Dopo 5 altri nei box. Corruzione e lieto. L'uomo di Salvini e Isoardi per Rai 1 arrestato a Salerno. Poi gli indipendentisti. Barcellona. Piazze di rabbia. Scontri. 35 feriti e 10 arresti. situazione esplosiva in Catalogna. Passiamo adesso al libero. Togliere il voto ai vecchi. Ormai Grillo è completamente fuori di testa. 5 Stelle raccoglie scarsi consensi tra gli elettori della terza età. Il comico l'insulta. Non hanno futuro. Non possono decidere quello degli altri. LPD non si scandalizza. In alto oggi a Roma la manifestazione di Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia. Centro-destra in piazza contro il governo. E poi due foto. Berlusconi animaliste. I cani più saggi dei nostri politici. E poi addirittura Davigo contrario alle manette. C'è evasore ed evasore. Andiamo avanti. Il tempo. Il vaffa sorridente degli italiani. San Giovanni oggi alle 15. Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia insieme contro il governo. Salvini suona la carica. Non fermiamoci. Manderemo a casa questi matti tassatori. E poi il cavaliere in corona Matteo. Ora è il leader del centro-destra. Altre notizie. Manovra in bilico. Grillini infurriati all'attacco di Conte. Misure devastanti sul contante. in sotto vediamo Italia Viva sbarca la Pisana. Gruppo Renziano in regione con l'ex fedelissimo di Zingaretti. Il manifesto. Qui invece siamo sulla politica internazionale. Soprattutto sulla crisi che riguarda la Siria. Il nord della Siria. Soprattutto i cinque giorni del Condor. La tregua di 120 ore annunciata. Giovedì da Stati Uniti e Turchia. Nel nord della Siria non è mai iniziata. Le truppe turche fanno strage di civili a Ras Alain. Anche Amnesty accusa crimini di guerra. Ma Erdogan rilancia l'ultimato mai curdi. Entro via entro martedì. L'offensiva sarà più dura. Di Maio e Renzi si lurano la manovra. Conte tra due fuochi. Cinque Stelle chiedono un vertice a Palazzo Chigi. Ex Premier li appoggia. La stampa con tanti Di Maio minaccia Conte. Il leader del Movimento Cinque Stelle si ricordi che a Palazzo Chigi lo abbiamo messo noi. Il Premier ribatte. Poteva telefonarmi. Altre notizie. in foto. Barcellona esplode la rabbia catalana e questa è la protesta del popolo catalano. Tassa su WhatsApp. Libano in piazza. Uomini e donne si sono riversati per le strade di Beirut proprio per protestare contro questa gabella. Il mattino. Caos manovra. Di Maio e Renzi sfidano Conte. Va corretta. Movimento Cinque Stelle senza di noi. Non si va avanti. Renzi via quota 100 subito un vertice. La rabbia del Premier e di Zingaretti. E poi siamo a Napoli ovviamente sul mattino. Napoli se questa è un'università. Vergogna a Napoli i ragazzi che studiano così tra sedie rotte e rifiuti. Questa è una foto diciamo abbastanza emblematica. Vediamo altre notizie. Sentenze pilotate. Spunta l'autore TV vicino alla Lega. E poi scontri a San Siro l'ultra napoletano. Voleva uccidere. Fermato il tifoso. Arrestato il tifoso Fabio Manduca. La verità. Grillo vuol togliere il voto ai vecchi. Ma uno non valeva uno. Gli over 60 hanno mollato i Cinque Stelle. Il papà dell'accordo con il PD rilancia le tesi folli. Tornate in auge dopo la Brexit. La fotonotizia. Italia Viva si raduna la Leopolda per far finta di non valere il 4%. E poi in basso centrodestra unito in piazza con due grane. Oggi nella rossa San Giovanni la manifestazione di Lega, Fratelli d'Italia e Azzurri contro il governicchio giallorosso. Malameloni lamenta. Sbagliati i simboli del carroccio. Renzi tenta la Carfania che giura però non lascia. Non lascio forza Italia. Il secolo quotidiano di Fratelli d'Italia a popolo sovrano. A San Giovanni bandiere, tricolori e tanta gente per dire basta al governo degli sconfitti. In basso Berlusconi scende in piazza contro il comunismo. E poi ecco la nuova Boschi. Maria Elena non approva. Macron fa fuori l'Italia invece dal tavolo della Turchia. Il sole 24 ore. Sud in arrivo i primi 5 miliardi. Subito 1 miliardo e 100 milioni a ricerca e impresa 4.0. Nel cavo, qui siamo, il magazzino generale di Modena, nel cavo 170 mila forme di parmigiano. Non sono lingotti, sembrerebbe, ma invece non lo sono. Sono forme di parmigiano, forme come lingotti. Quindi altre notizie che riguardano soprattutto gli aspetti economici. Rossi, l'Italia non riparte salvo intese, sul taglio alcune o poco coraggio. E poi Cina, la crescita si ferma al 6% mentre Hong Kong finisce in recessione. Andiamo adesso sui quotidiani sportivi. Prima di chiudere la prima parte, iniziamo con il Corriere dello Sport. Questa è l'apertura Hot Juve contro il Bologna di Sinisa Mijalovic. Sarri inaugura il periodo tradizionalmente più caldo e brillante per i bianconeri. Tre settimane alla sosta di novembre. La signora prova a fare il vuoto. Mijalovic sulla panchina rosso-blu. Ovviamente c'è spazio anche per le altre squadre. Lazio a reazione. Inzaghi vuole prendere il volo. Siamo in casa Lazio. Alle 15 l'esame Atalanta. Ancelotti De Laurenti, 60 alleanza in casa Napoli. Poi, Sensi, siamo in casa Inter. Nuovo stop. Salterà il Borussia Dortmund mercoledì. Ecco che ha ucciso l'Ultra a Milano. Scontri prima di Inter-Napoli nel dicembre 2018. Preso un tifoso partenopeo. E poi vediamo omosessualità. Quanti pregiudizi sono le ragazze della nazionale italiana che dicono in Spagna si è più liberi. Da noi si ha paura. Ma questo è il protagonista. Sinner da impazzire. Abbiamo una stella nel tennis in semifinale ad Anversa. 18 anni. Entrerà nella top ten. Davvero bravissimo questo ragazzo. Il futuro del nostro tennis. Gazzetta dello sport. Le parole di Slatan Ibrahimovic. Italia voglio tornare. Dice Conte il top. A Napoli sarei come Diego. E da Sinisa il mio contratto scade a dicembre. Ora ho 38 anni ma valgo sempre 20 gol. Il vostro paese è la mia seconda casa. Queste sono le parole di Ibrahimovic che parla da Los Angeles. Riecco la Serie A. Amici contro Sarri contro Mijailovic. Quando la stima va oltre il campo. Il commento. CR7 allungato pure nella sosta. Ovviamente le parole di elogio su Ronaldo non mancano assolutamente mai. La rivolta in Catalogna rinviata a Barcellona Real Madrid. Il classico si giocherà il 18 dicembre. Tennis Sinner Record. Un giorno da top 100. E poi scendiamo ancora United. La grande crisi e la voglia di Allegri. Inter un guaio tira l'altro. Niente Borussia Dortmund per Sensi. E in cella l'ultra che investì il tifoso nerazzurro Fabio Manduca. 39enne napoletano accusato di omicidio volontario. Tutto sport ovviamente. L'apertura è dedicata alla Juventus. Addirittura con un appello. Dategli il pallone d'oro. Lunedì le nomination di France Football. I 700 gol. Un 2019 ricco di rego. Insomma tutte giustificazioni per chiedere il pallone d'oro sarebbe il sesto per Cristiano Ronaldo. Vidal chiama dal cileno messaggio all'Inter. Conte mostruoso ma Sensi è di nuovo. K.O. in alto. Casa Toro. Bravo Unculu. Avanti col Toro. Il reinserimento procede nel migliore dei modi. E Cairo non pensa più alla cessione anticipata. Elena un calce pregiudizi. La Linari colonna della Nazionale dell'Atletico. In Italia ho ancora paura a parlare di omosessualità. In basso. Fenomeno Sinner. Semifinale a 18 anni. E lunedì sarà tra i top 100. Eterno Valentino Rossi senza freni per rinascere. Domani mattina c'è il Gran Premio del Giappone. Chiudiamo qui la prima parte dedicata alle prime pagine. Adesso spazio alle previsioni del tempo. Pubblicità. e poi torniamo per sfogliare i quotidiani di casa nostra.